La chiesa monumentale di San Giovanni in via Passeria Pesaro, dai controlli effettuati ieri dai vigili del fuoco a seguito delle scosse di terremoto, sono state rilevate alcune crepe nella parte alta del bene e per questo il comune e i vigili del fuoco hanno deciso di transonnare l'ingresso della chiesa. Ci avviciniamo e per un paio di giorni la chiesa resterà chiusa come potete leggere in questo cartello in attesa della messa in sicurezza che verrà effettuata indicativamente tra domani e i giorni successivi.